Buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti e benvenute a questa domenica di Lector in Fabula e a questo secondo appuntamento per il pubblico di Lector Ragazzi che è la sezione del festival che si occupa di bambine e bambine, ragazzi e ragazze e dei libri e della letteratura a loro dedicati. Siamo molto contenti di avere qui con noi oggi Isabella Labate, fate l'applauso. Grazie. 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 sul futuro, a partire da un'autrice che invece, lo vedete anche solo da una prima, come dire, sguardo al suo lavoro, apparentemente sembra, o forse è, questo lo scopriremo, molto legata alla narrazione del passato. Ed è interessante perché il titolo che è stato dato a questo incontro è un'archeologia del visivo. Archeologia è un'altra parola che ci fa pensare a qualcosa che ci porta indietro, che ci porta a scavare, che ci porta a trovare dei reperti, dei tesori, delle tracce, delle testimonianze di qualcosa che è stato. E che nel lavoro di Isabella, però questo avremo modo di vederlo insieme a lei, secondo noi è molto legata a invece una tensione etica che guarda molto il presente e che dal presente guarda verso il futuro. Due parole su di lei. Isabella è un'autrice ed è una grandissima disegnatrice, illustratrice, e in questa parola c'è un lavoro duplice che è quello di raccontare attraverso il disegno, ma anche quello di dialogare a volte, in alcuni casi, come ad esempio nel libro che abbiamo in questo momento alle spalle con cui abbiamo deciso di cominciare questo dialogo, dialogare con altre voci di scrittori e scrittrici che danno un testo a delle storie, capiremo poi quali. Si forma, nasce a Savona, dato fondamentale perché rientra spessissimo nelle nostre conversazioni e nel caso di Isabella della sua relazione fra la realtà e il mondo che poi trasferisce nei suoi libri ha forse una radice molto importante e studia illustrazione, lo fa in una scuola, ci raccontava prima chiacchierando, in cui l'illustrazione non è ancora quella degli albi illustrati come noi la pensiamo oggi, ma è un'illustrazione più legata a un mondo che è quello della pubblicità, della comunicazione degli anni 90 e che però non le impedisce di incontrare dei grandi maestri di illustrazioni come Emanuele Luzzati che è stato uno dei suoi insegnanti. Dal mondo delle immagini che raccontano all'interno della comunicazione Isabella poi arriva al mondo dell'illustrazione per l'infanzia, teniamo questa categoria molto ampia, e inizia a creare dei libri, prima per il mercato estero e poi per quello italiano, dove il primo uscito è... Tina, ci servi? Grazie. È questo, giusto? No, in realtà no, il primo tuo... Qualcosa era uscito negli anni 90 di diverso tipo, però sì, la pausa che ho avuto poi con la Green Press a Taiwan ha fatto poi uscire questo in Italia, sì. È anche l'inizio di una collaborazione con uno dei suoi due editori, diciamo, importanti in Italia che è Orecchio Acerbo, questo è un libro di cui Isabella è autrice, illustratrice, autrice completa, diciamo, ed è lungo il cammino, e Orecchio Acerbo è una di queste due case editrice, l'altra è Kite Edizioni, e poi sarà magari, se abbiamo tempo, anche interessante capire come si ragiona con due editori e due progettualità diverse. Si è di nuovo spenta la televisione perché dobbiamo ricordarci... È partita, ok. Però ci interessava, diciamo, mentre oggi chiacchieravamo, abbiamo pensato che forse, più di tutto, più che delle domande sul suo lavoro, più che partire, diciamo, dal macro, poteva essere bello partire con voi col racconto di un libro, perché è un libro che è tre in tutto, che Isabella illustra con un testo di Davide Calì, è un libro che è legato a, in qualche modo, al posto dove siamo, non tanto alla fondazione di Vagno e di per sé, ma alla Puglia, proprio per la storia che racconta. Ed è però un libro che racconta, il cui racconto, ascoltato da Isabella, dice in maniera esemplare di molte cose. Dice di un metodo di lavoro, dice di un'etica, dice di una tensione verso la documentazione, dice di una relazione fra autrice e storia con la S maiuscola. Per cui abbiamo pensato che fosse bello partire proprio dal racconto di un libro. Un libro che racconta una vicenda molto specifica che è quella dei treni della felicità che dopo la seconda guerra mondiale portano molti bambini e molto bambine del sud Italia a, come dire, andare per un periodo a cercare un ristoro e un risanamento fisico, vero e proprio, in alcune cittadine del nord Italia e che ha creato di fatto alcune storie, qualcuna nota e qualcuna invece molto meno nota, che Isabella poi è andata a scavare per poterla raccontare poi per immagine, che hanno, come dire, creato dei percorsi di vita, alcuni dei quali arrivano anche finadoci di alcuni testimoni di quest'epoca. Per cui ci piace partire da tre in tutto. E forse chiederei a Isabella, prima di entrare nel libro, di partire da qui, cioè di partire dal fuori. Quando parliamo dei libri la copertina è sempre, come dire, nei libri narrativa è una cosa che ci colpisce o non ci colpisce, negli albi illustrati spesso è l'inizio della narrazione, perché è la prima cosa che noi vediamo e chi lavora con le immagini lavora con qualcosa che si vede. E quindi partirei da qui, se ce lo racconti a partire da qua. Questo funziona. Quando faccio le lezioni ai miei studenti aspiranti illustratori, io dico sempre che il percorso che un illustratore deve fare con le immagini deve essere un'interpretazione del testo e una visione particolare dell'illustratore, come se fosse un racconto per immagini parallelo, che quindi non sia didascalico. Per me didascalico diventa quasi un problema, perché se testo e immagine dicono la stessa cosa, in effetti è inutile. E dico sempre attenzione al titolo, perché il titolo va interpretato. Spesso le case editrici scelgono una delle illustrazioni interne del libro, significativa, però a me piace interpretarlo il titolo. Quindi in questo caso, tra in tutto, quando mi è stato proposto dalla Fausta Orecchio, che è l'editore di Orecchio Acerbo, io ho avuto subito questa visione, questa immagine di tre donne come tre pilastri, perché questa è una storia di donne, è una storia delle mamme del sud che hanno lasciato andare i bambini per poterli salvare dalla fame, delle mamme del nord che hanno ospitato, delle donne del Ludi che sono partite a gennaio in bicicletta andare a cercare nei paesini i bambini che avevano bisogno. E quindi dovevano esserci le donne. E qui ho costruito una metafora, veramente una specie di architettura che sorreggesse il titolo, perché la mamma al centro è la mamma naturale dei due bambini e non si vedrà mai in viso e poi magari ci arriviamo anche perché non si vedrà in viso, però guarda avanti, guarda al futuro. Mentre due mezze mamme, che sono le mamme che prendono i bambini in affido, guardano al presente, cioè guardano ai bambini, uno dei due bambini si volta indietro a guardare al passato ed è la voce narrante del... e anche se non si vede tutti si tengono per mano e questo è il filo che diciamo lega questo... e col seno di poi in quarta di copertina ci sarebbe stato anche una fila di mani che si tengono allacciate e col seno di poi avrei cambiato tante cose... però ne sono piene le fosse dico... bisogna che ci giriamo lo stesso... e forse vi leggiamo un incipit, vi facciamo entrare proprio nella storia leggendo... vuoi leggerlo tu? è stato così tanto tempo fa che quando ci penso mi sembra un sogno mi chiedo davvero eravamo noi... la guerra era appena finita le guerre sono tutte brutte ma quella dicevano i grandi era stata più brutta delle altre... noi eravamo bambini e avevamo visto solo quella... più che vederla l'avevamo sentita... il prete però non voleva... ci disse che in Alta Italia i comunisti mangiavano i bambini... oppure ci facevano il sapone... la guerra era finita e tutto era rotto... a casa non c'era abbastanza da mangiare per tutti... un giorno ci dissero che alcune famiglie dell'Alta Italia volevano accogliere i bambini del sud povero... e noi eravamo bambini del sud... di essere poveri non l'avevamo mai saputo... partimmo lo stesso... allora... siamo al pre... siamo all'inizio di questa storia che poi avrà uno sviluppo poi andiamo anche avanti a dirvi che ci sono delle cose che ci piacerebbe sentirci raccontare a noi di nuovo... ma... già questo incipit... secondo me... anche per parlare del tuo lavoro in generale... mette in evidenza tante cose diverse... sia del tuo lavoro che di questo libro... una delle cose di cui parlavamo oggi è proprio come entri in questa storia... perché è una storia che appunto... arriva da parte nel presente... cioè parte con qualcuno che racconta di sé... non credendo quasi che sia la sua la storia che stiamo per sentire... e dal presente ci mette immediatamente in un'atmosfera... in un tempo... ci colloca in un tempo con una scena di guerra... una scena molto precisa... poi magari... ci piacerebbe che ci riraccontassi un po' anche il lavoro fatto su quell'immagine di guerra... che vediamo da lontano... siamo noi testimoni... quanto lo sono quei bambini... che però nel testo... che è molto interessante anche questa... la sentono... la guerra... più che averla vista... e poi... dalla guerra... Isabella ci porta immediatamente alle conseguenze di quella guerra... cioè alle macerie di una città... i cui bambini però sono bambini... e sono bambini in tutto e per tutto... perché... indipendentemente dalle etichette che... il resto del mondo... gli colloca addosso... dice che Davide Calì... noi non sapevamo... che eravamo poveri... ed è molto intenso il lavoro che Isabella fa di dialogo... secondo me... con il testo... il testo dice di un pensiero... l'immagine dice di un'oggettività... di una presunta oggettività poi... in cui... invece noi lettori... quella povertà... la sentiamo... la sentiamo immediatamente... allora... la domanda che ti... sono due le domande... e... la prima... è proprio... come ti sei posta quando hai ricevuto questo testo... cioè come... cosa succede quando devi costruire... un... una storia come questa... che ha un testo... quindi una voce narrante... ma anche una storia vera... quindi ha... i documenti... delle persone reali che... che ci sono state... ha delle... ha delle cose da cui non puoi prescindere... e poi la seconda te la faccio dopo... quando Faustam ha... eh... proposto questo libro... e questa storia... io intanto sono rimasta sorpresa... del fatto che non ne sapessi nulla... e ho detto... beh... ma come... è possibile... che una storia così bella... così... importante... che parla di solidarietà... di italiani che aiutano italiani... sia finita nel dimenticatoio... no? e... e poi... ho pensato... che fortuna però... no? che in questo momento storico mi venga... eh... eravamo in pre-covid... no? quindi... poi... ha avuto veramente un senso anche però... questo libro... nelle classi... nelle... nelle scuole... e... intanto... mi sono documentata... sul periodo storico... eh... ho trovato del materiale in rete... eh... ho scoperto... come è nata... eh... questa... eh... questo programma... questo slancio... veramente... no? ho scoperto da dove è partito... è partito da un delegato di Cassino... che a un congresso del Partito Comunista... ha detto... qua nel Cassinato... i bambini stanno morendo come mosche... c'è un'intera generazione di bambini che... sta andando per... fame... per il tifo... per il colera... era scoppiato il colera... non arrivavano le ambulanze... perché c'erano le strade minate... e... e... grazie... alle orecchie di Teresa Noce... ex partigiana... eh... che era tornata dai campi di concentramento... una che... si era tolta... il grembiule... e che si era messa il fucile in spalla... che era andata... nelle montagne... no? con gli uomini... che ascolta queste parole... e... concretamente sente... che c'è bisogno di fare qualcosa... e... e ho scoperto che in rete... in realtà... materiale ce n'era... ho scoperto per esempio che... un avvocato... Angelino Loffredi... del Cassinate... è andato in pensione... e si è preso le liste... del Ludi... con i nomi di tutti quei bambini... che erano partiti... dal 46... al 52... con questo... programma... e li ha... intervistati... e ha... trascritto le testimonianze... le testimonianze... per me sono state... importantissime... perché anche se non avevo... delle fotografie... avevo... delle immagini... che arrivavano... da questi... racconti... e quello per me... è stato... fondamentale... e poi... il testo... perché... Davide... Davide Calì... è uno degli... scrittori veramente... più talentuosi... che abbiamo... in Italia... e uno che è... capace... a scrivere... per gli albi illustrati... e dà sempre... spazio... a un illustratore... per avere... il suo racconto... per immagini... cioè... l'immagine che vedete adesso... nello schermo... quella del bombardamento... quando lui l'ha scritta... pensava... a Napoli... e io invece ho... ehm... ho pensato... a... a Monte Cassino... ho pensato... al Cassinate... e... in questo caso... ho proprio scelto... anche... di mettere gli aerei... degli alleati... perché... le persone... di quella zona... hanno sofferto... prima... per i tedeschi... ma poi... ancora più ferocemente... per... per... l'arrivo... degli alleati... e... e... l'ho detto anche prima... eh... chiedo ai bambini... quando mostro questa immagine... gli aerei sono quelli dei buoni... o dei cattivi... e tutti dicono i cattivi... poi c'è sempre quello che riconosce che... sono... aerei americani... e... e allora... inizia un dialogo... e quando... un'immagine... eh... fa scattare il dialogo... nei ragazzini... allora... penso... che allora... hanno fatto un buon lavoro... e... questa cosa che dicevi degli aerei... che... che ci ha molto colpito oggi... mi fa venire in mente un'altra cosa che... dicevamo questa mattina... e... eh... niente... eh... nelle immagini... di Isabella... e questo lo si percepisce ancora prima di parlare con lei... poi quando parli con lei... ne hai... il riscontro al 600%... niente... è lì... per caso... non è solo che niente è lì per caso... perché... c'è una fedeltà storica... ma... eh... perché... eh... in questa fedeltà storica... c'è un'attenzione narrativa... ad ogni dettaglio... come se... mi veniva in mente guardando... eh... guardando... questa immagine qua... guardando i muretti a secco di cui parlavamo prima... eh... ci sia la possibilità di mettere a fuoco... come l'occhio umano non ha possibilità di mettere a fuoco... l'occhio umano mette a fuoco un post... un punto... e il resto è sfocato... nelle immagini di Isabella invece è... tutto a fuoco... non visivamente... ma... concettualmente... cioè... ogni cosa... ha un motivo... ogni mano... ogni gesto... ogni oggetto... ogni pietra... ogni fumo... ehm... ehm... e... e questa cosa... da una parte... questo è un commento... per noi che ci occupiamo di libri per l'infanzia... è importantissima perché... non ci stanchiamo mai di dire quanto è importante... che ci siano degli strati sotto... perché gli strati sotto poi... che sembrano sotto... sono quello che vengono a galla di un lavoro... non sempre arrivano... in un modo... nell'altro... sono come questi aerei... poi... a domanda... l'immagine... ti porta per mano a darci una risposta... e... ehm... qui... ti chiedo... ehm... 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 come si fa... ehm... come si fa... a tenere a fuoco tutto... perché uno pensa... al tempo... per concepire... un'immagine... per poter articolare... così tante informazioni... tante storie... ehm... come lavori... per poter tenere... tutte queste cose... insieme... e poterle mettere... così... precisamente... ehm... in fila... una accanto all'altra... io di solito mi prendo... un mesetto... per... ehm... concepire... il... il... progetto... e... cerco di... creare... nella mia mente... un set... virtuale... dove... mi posso muovere... ehm... a 360 gradi... e... ehm... a un certo punto... mi fermo... faccio un fermo immagine... praticamente... e... ehm... decido che quello... è il punto di vista... ehm... decido quali dettagli... devono esserci... e perché... e... ehm... tante cose... avvengono in maniera... inconscia... lo dicevo... no? stamattina... cioè... quando... si crea e quando si disegna... si usa... un emisfero del cervello che... ehm... l'opposto del razionale... quindi... ehm... tante cose... io me ne accorgo dopo... in copertina mi sono accorta... di aver disegnato... nelle due mamme del nord... ehm... le mie altre due mamme... cioè... di quando ero bambina... la zia... e la nonna... che hanno aiutato mia mamma... a crescermi... cioè... ma me ne sono accorta... due anni dopo... e... 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 e lì è stato totalmente inconscio... anche... nella personalità... io... quando devo disegnare... ehm... un personaggio... anche se nel testo non c'è scritto... io gli creo... la sua personalità... gli creo un vissuto... gli creo un passato... è quello che mi aiuta... no... a dare anima... a... a una figura che... resta bidimensionale... e... non so perché sono arrivata fin qua... adesso mi sono persa... no... però... no... stavamo parlando di come riesco... no... a... a lavorare... mi piace nascondere tanti dettagli... mi piace che... qualcosa sia... decifrabile... solo da una certa categoria... di persone... in questo libro ci sono... ehm... oggetti... no... che possono... che ha... che sono... che rappresentano un simbolo... e possono essere... compresi... solo da chi... ha vissuto questa storia... e infatti... nei miei giri per l'Italia... perché questo è un libro che mi ha fatto veramente girare l'Italia più volte... ho conosciuto dei bambini di allora... e... loro... sfogliando il libro... mi hanno detto... questo... io lo riconosco... e... volevamo farvi vedere una pagina... però... secondo me se andiamo direttamente lì... eh... vi perdete un pezzo... perché poi... nella narrazione... eh... i bambini partono con il treno... i bambini hanno l'eco di quel prete che abbiamo sentito prima... e i bambini arrivano... ehm... in questo... nord... spaventati... perché poi... adesso noi... con l'ottica della distanza a volte... normalizzi anche l'eccezionalità di una cosa... e qui ci sono questi bambini... questi fratelli... in realtà che sono poi... i due protagonisti della storia... che... eh... hanno il terrore di quello che gli succederà... perché gli hanno detto che li trasformano in sapone... quindi... una vasca con l'acqua può diventare drammatica... così come... il prendere le misure per un vestito... diventa l'incubo... legato... a un possibile pentolone... che quando si materializza sul tavolo... che è il contenitore della polenta in realtà... niente di più... eh... sciocca... i due... i due fratelli... che poi invece si ritrovano... simbolicamente... e... e più di una volta di quanto nel libro viene raccontata... a invece... consumare... un lauto pasto... e... Isabella ci raccontava prima... eh... di come... ad esempio... gli oggetti... di... di questa pagina... corrispondano a... a quella tazza lì... di quel brodo lì... e di come anche... persone vedendo il libro hanno saputo riconoscere... eh... degli... degli oggetti... eh... e... oltre agli oggetti... eh... ci sono delle facce... e anche questo è un altro dato importante... non ci sono solo... le reminescenze della nonna e della zia in copertina... ma ci sono dei... dei volti... in questo dialogo correale di... eh... di Isabella... e... le facce dei personaggi... non solo in questo libro... poi andremo anche dentro gli altri... eh... il bambino del tram... hanno delle identità precise... che non possono essere delle identità... o perlomeno... hai l'impressione da lettore che siano le identità legate a... una persona... e non all'immagine che un autore si fa di una persona... e qui magari chiedo di raccontare anche... anche a... al pubblico... che non siamo noi che l'abbiamo sentito stamattina... ci siamo molto... eh... commossi... di... ehm... come... vengono scelte queste facce... da dove le prendi... come le... come le metti poi dentro questi libri? Allora... vi faccio vedere anche... le facce... ehm... sarà questo... sì... questo... allora... qua... penso... nascondi barolaterale... ok... allora... la... mia amica Serena... ha posato... sia per mamma Ilde che per mamma Paola... cioè ci siamo divertite... a... eh... cambiare... eh... abbigliamento... a cambiare anche baricentro... no? le ho spiegato... una sorella... quella sposata... è un po' più pratica... porta gli occhiali... non si trucca... non si... ehm... arriccia i capelli... ehm... ha da fare... mentre l'altra... quella nubile... ehm... le piace mettersi il rossetto... mettersi gli orecchini... il filo di perle... è una sarta... eh... le piace vestirsi bene... eh... e... le piace anche un po' flirtare... anche se... non si sposerà mai... e ho pensato... eh... in questa ricostruzione che facevo del personaggio... il suo amoroso è morto in guerra... quindi lei... resterà zittella per tutta la vita... perché lei si era promessa... a lui... e... e questo ha aiutato la mia amica Serena... no... eh... eh... dare anche proprio... eh... 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 una recitazione... i miei personaggi ovviamente devono... eh... eh... quindi una recitazione al... eh... abbiamo guardato delle... foto vintage... io compro foto nei mercatini degli anni quaranta... cinquanta... e... eh... guardo le pose... che sono diverse da quelle di adesso... guardo... quanto si spinzettano le sopracciglia... no... cioè... anche quello... crea atmosfera... e... questi sono alcuni oggetti... in casa di mia suocera... questo è il servizio della... questa è casa mia... il servizio della... della prozia... mi aiuta... insomma... no... eh... mamma che fanno... i tortellini... il pane... con la W... e questi sono i ragazzini... anche i ragazzini... io li ho... trovati quasi subito... eh... sono figli di un'amica... eh... fratelli quindi... eh... hanno una capacità di dialogare con gli sguardi che mi serviva... no... io li ho proprio... abbiamo giocato tanto con... i ragazzini... e... in un pomeriggio abbiamo... ormai avevo tutto nella testa... quindi... in un pomeriggio abbiamo... creato tutte le pose che... mi servivano... e... io li faccio... io racconto ovviamente la storia... questo è... vabbè... quello al centro è mio figlio piccolo... che era piccolo... eh... anche questo... eh... questa è mia mamma... ecco... nel senso... come facevano i pittori nel 600... che... mettevano il garzone... prendevano il garzone... l'amico... e li mettevano in posa... e... eh... tiravano fuori il quadro... io alla fine faccio... nello stesso... nello stesso modo... eh... ecco... e... invece... invece... più la cercavo... la... la mamma del nord... del sud... e più... non la trovavo... la mamma del sud... si vede in due scene... una è quella della copertina... e l'altra è questa... che è... il distacco, no... la partenza dei bambini dal... dal... da Roma... e... e mi chiedevo perché... non mi venisse questo viso... che non riuscissi a trovarlo tra le persone che conoscevo... e... e poi ho pensato... che questa donna... è... una donna analfabeta... eh... poverissima... senza... più il marito... quindi senza protezione... e... probabilmente abusata... durante... la guerra... e... e che espressione... riesci a mettere, no... su un viso... come quello... allora... ho preferito coprirlo... ho preferito lasciarle... la sua dignità di vedova... e quindi... il... il viso della mamma... non... non si vede... questa cosa... mi fa venire in mente... mi fa venire in mente un altro libro... magari ci torniamo qua... perché non avete ancora visto i tortellini... eh... che sono dei momenti chiave del libro... ma... mi fa venire in mente... ehm... l'ultimo... no... forse è uscito dopo Hemingway... dunque... l'ultimo libro di Isabella... che è uscita per Orecchio Acerbo... che è il bambino del tram... che è un'altra storia... vera... nel senso che è la storia... di un signore... che si chiama Emanuele di Porto... che... il 16 ottobre del 43... sfugge... all'astrellamento... ehm... degli ebrei... a Roma... nel ghetto di... ebraico di Roma... e... ehm... e viene salvato... di fatto... ehm... diventando il bambino del tram... perché il tram diventa... per un periodo... la sua casa... realmente... il... il suo rifugio... e la casa dove sta... e questa cosa che dicevi... del... della madre... ehm... mi porta a un'altra madre... perché qui c'è una storia... in cui un bambino rimane solo... della famiglia... in realtà... un membro della famiglia... che è la madre... ehm... verrà deportata... ad Auschwitz... mentre... una parte della famiglia si salverà... e si ricongiungerà poi... con Emanuele... e... anche questa madre... non la vediamo... e... in tutto il libro... ed è molto interessante... questa... attitudine di... di Isabella... perché nel suo essere... a volte... ehm... esteticamente... e... per finta... secondo me... più vera del vero... eh... mette in atto... delle strategie... che non sono narrative... ma sono delle strategie di... attenzione... il fatto... che lei riesca... che tu riesca... a toccare... dei temi così... ehm... forti... e intensi... e delle storie così dure... e però riesca... sempre a trovare... una misura... che ha a che fare... con una delle cose... che è più difficile da raccontare... che è la violenza... ma al tempo stesso... anche la misura di... delle relazioni... fra le persone... e... e allora... niente... mi piaceva intanto... chiederti... eh... di... di raccontarci... questa storia... e poi veramente... anche qui... eh... capire... come è giocato... la relazione... fra... Emanuele... e... la parte persa... eh... la madre... la famiglia... che torna... ma torna nominata... e invece... la parte guadagnata... cioè la parte... salvifica... che è quella di nuovo... dei tranvieri... ci sono molte... chiaramente... sovrapposizioni... anche fra queste due storie... che sono due storie... poi... lontanissime... ma che si assomigliano... nel... nel... nucleo... allora... questa... questo... progetto... ehm... è nato... perché io ho sentito... un'intervista... in televisione... alla RAI... a Emanuele Di Porto... una cosa che durava pochi minuti... Emanuele ha compiuto 93 anni... ieri... ancora vive in Egitto... ma allora aveva... ne aveva 89... e... in maniera molto semplice... ha detto... il 16 ottobre del 43... io ho visto... dalla finestra... di casa mia... in via della Reginella... al Ghetto... mia mamma... presa da un tedesco... e... sono sceso... di corsa... perché la volevo salvare... lui aveva 12 anni... appena compiuti... e... ed era già un uomo... perché... erano 4 anni... che lavorava... e... appena è sceso... e ha chiamato mamma... i tedeschi hanno preso anche lui... e l'hanno caricato... sul camion... insieme a sua mamma... e la mamma... faceva... finta di niente... faceva finta di non conoscerlo... e... e quando poi... l'hanno caricato sul camion... l'ha sgridato... e gli ha detto... avevo detto... eh... te sei... cacciato... nei guai da solo... gli ha detto... sei... voluta andare in bocca... io nave... cioè proprio... il gergo del ghetto... no? queste cose... insomma... nel trambusto... è riuscito a dargli un calcio... e l'ha spinto fuori... e lui... non si sa come... è riuscito a uscire dal ghetto... e arrivare in piazza di Monte Savello... dove c'era... il... ehm... capolinea... della circolare... del tram... della circolare... sale... e si fa la seconda scommessa... della sua vita... perché... invece di... pagarsi il biglietto... e dire... eh... scendo da un'altra parte... dice... al... al tranviere... sono ebreo... mi stanno cercando i tedeschi... e questo... non solo... eh... rischiando la propria vita... perché allora c'era... la fucilazione... no? quando... nascondevi un ebreo... sull'altro piatto della bilancia... se lo vendevi... un ebreo alla polizia... guadagnavi dei soldi... che erano tanti soldi... un bambino valeva... mille e cinquecento lire... una donna... tremila... e un uomo... cinquemila lire... c'è gente che si è arricchita... vendendo anche i parenti... e... e lo nasconde... e... si passano la voce... uno con... con l'altro... al turno successivo... dividono il proprio pranzo con lui... eh... lo nascondono anche di notte... in deposito... e... e finalmente... poi... eh... un vicino di casa... il terzo giorno... sale sul tram... lo riconosce... gli dice... tuo padre... ti sta cercando... lui... non sapeva nulla... lui aveva visto che nel ghetto... caricavano dei gran camion... quindi pensava che i suoi fratelli... fossero stati... eh... presi... il padre fosse stato preso... lui... ha cercato di scappare proprio per... eh... obbedire... alla madre... per non... eh... rendere vano... no... questo gesto che ha fatto la madre... io quando ho sentito questa storia... ho detto... ma... una storia pazzesca... e... per quanto ancora la potrà raccontare... Emanuele... noi non abbiamo foto del 16 ottobre... perché... eh... quel giorno è successo in maniera... tutto... in maniera così veloce... che... nessuno ha avuto neanche l'istinto, no... di prendere... così ho chiamato Paolo Cesari... della casa editrice... senza avere un testo... soltanto con l'idea... e... e lui mi ha detto... sì... lo facciamo... va bene... lo facciamo... e in due giorni... mi ha... eh... fornito il numero di telefono di Emanuele... chiamalo subito... e quando Paolo mi dice le cose... io obbedisco... perché... è molto autoritario... e quel chiamalo subito... mi ha... ehm... fatto passare un brutto quarto d'ora... perché... l'ho chiamato... Emanuele... gli ho detto... chi ero... e che cosa volevo fare della sua storia... e lui mi ha detto... grazie... non mi interessa... quando si tratta di una storia vera... non puoi... non... avere... eh... diciamo... il permesso... no... della persona di cui parli... e ho detto... va bene... allora questo libro non lo facciamo... in realtà... poi... parlando con Paolo... Paolo conosce tutti a Roma... eh... siamo andati insieme a Sira Fatucci... che allora era la segretaria della comunità ebraica... direttamente a casa di Emanuele... portando una pila di libri di Orecchi Acerbo... e lì ha capito... ha capito... e eh... non solo ci ha raccontato tutta la storia... altri dettagli... insomma... no... ci ha permesso... eh... di fare foto... in casa sua... il bambino si affaccia... da questa finestra... ed è esattamente... la finestra... perché lui sta ancora in quella casa... e... abbiamo fatto il giro del ghetto... mi ha mostrato... e... sentivo forte... proprio... la responsabilità di rendere... fedeltà... alle parole di Emanuele... che tutto quello che io... disegnavo... doveva essere quello che i suoi occhi avevano visto... e... eh... quando... ho finito i definitivi... eh... li ho consegnati a Paolo... Paolo è andato da Emanuele... gliele ha mostrati... e lui... è rimasto con gli occhi spalancati... e diceva... incredibile... è... successo proprio così... questo... era proprio qua... quest'altro... era proprio qua... e Paolo mi ha detto... nessun premio... ti potrà mai dare... questo che... ha appena detto... Emanuele... avevo proprio... bisogno... che ci fossero... le stesse cose... che lui... ha detto... proprio per... continuare a... eh... portare avanti... questa sua... testimonianza... a lui è cambiata la vita... completamente... perché... ehm... la comunità ebraica... lo ha... lo porta su un palmo... il... il presidente... gli ha dato il cavalierato... lui... gira... in continuazione... per scuole... librerie... eh... si abbraccia... tutti i bambini... e si abbraccia... tutte le maestre... perché... 93 anni... ma... un certo... un certo... personaggio... ehm... io vi guardavo... mentre le raccontava... questa storia... e chiaramente... è abbastanza difficile... e la racconta lei... non la sta raccontando... Emanuele Di Porto... ed è abbastanza difficile... rimanere neutri... davanti a questa storia... ehm... però... quando voi leggete questo libro... ehm... succede una cosa... che succede... raramente... con chi racconta queste storie... c'è quasi... e lo state vedendo nelle immagini che passano... forse è bianco e nero... forse... è il lavoro di grafica... in realtà è il lavoro di Isabella... e... è come se... Isabella... togliesse... da queste immagini... tutto ciò che è... patetico... nel senso più... etimologico del termine... per restituire a queste immagini... tutto ciò che invece è... l'emotività forte... di... di quei momenti... per cui... ehm... è come se... ehm... e torniamo alla dialettica... da cui eravamo partiti... da cui eravamo partiti... con la storia, no? è come se... in qualche modo... ehm... tu riuscissi a fare una cosa... per me... difficilissima... ehm... penso sempre a Roberto Innocenti... e ai modi diversi che avete di farlo... cioè... togliere... ehm... che in qualche modo sono le superfettazioni... che i nostri occhi mettono sulle storie... che ci commuovono... che ci toccano profondamente... per... lasciare al lettore... e alla lettrice... proprio il compito di mettere in fila i pezzi... e di... e di sentire fortemente invece... quella... la potenza della storia che stai raccontando... ehm... una delle cose... ehm... posso vedere come finisce... sì... dai... tanto... una delle cose che a me di questo libro... ehm... mi ha... lasciato veramente... ehm... come dire... mi ha dato la misura... è che... non vedi mai... ehm... la mamma... di Emanuele... e poi... nella parte... ehm... come dire... in una delle parti... di solito non considerata del libro... che è... quella pagina... che è la pagina finale del libro... abbiamo due foto... abbiamo di nuovo la realtà che arriva... abbiamo... una foto e un disegno... scusami... due foto... anche su questo lapsus possiamo tornare... ehm... abbiamo Virginia... e abbiamo quella vera... ehm... abbiamo... lei... e poi abbiamo... Emanuele... che è vivo quindi è... non... è adesso... è un signore di 89 all'epoca... 93 adesso appunto... e questo dettaglio che tu ci hai svegliato... così... eh... parlandoci... della casa... del vivere... nella stessa casa... che per tutta la storia... che è la storia di un bambino che sta fuori di casa... cioè che vive sulla... banchina di un autobus... non... ehm... non sappiamo... ehm... allora... non so neanche se qual è la domanda... in realtà... perché... ehm... mi chiedo sempre... ehm... come si trovi questa misura... cioè... se è un obiettivo che... che è una cosa che succede... nel raccontare le storie degli altri... o se è un obiettivo che... un autore... si dà... cioè... se è un tono... che tu... decidi di dare alla tua storia... e quindi un modo anche di... stare dentro... perché sei tu la tua... la protagonista... in fondo... perché il segno è il tuo... ed è inconfondibilmente tuo... ma... al tempo stesso... sottrarti... è che... quando si lavora... sulle storie... col dolore... ehm... è un po' come camminare sui vetri rotti... no... ti fai male... e... ehm... questi sono libri... dedicati... anche se... poi... i libri di Orecchio Cerbo... specialmente vanno... dagli 0 ai 99 anni... perché sono tutti libri questi che... vengono letti nell'RSA... per esempio... no... ehm... e che sono molto apprezzati... anzi... dalle persone anziane... e... a me ha aiutato... una frase che Monicelli... aveva detto... a... ehm... degli studenti... ehm... di sceneggiatura... no... ehm... ehm... degli... degli studenti che studiavano appunto... come diventare degli sceneggiatori... e lui aveva detto... se la ricordo... bene... approssimativamente comunque era così... ehm... non scrivete scene madri... scrivete scene figlie... ehm... perché... quando si ha a che fare con il dolore... e l'amore nelle forme più assolute... questi diventano ricattatori... e... ehm... a me ha sempre fatto pensare questo... è vero... no... quando si... espone troppo... il dolore... diventa quasi... il pornografia... e... è una storia dolorosa... nello stesso momento... che il bambino scende dal tram... la madre sale su un treno diretta ad Auschwitz... ehm... abbiamo ragionato tanto con Emanuele... perché la madre sia stata portata alle camere a gas subito... appena arrivata ad Auschwitz... e... ehm... quando è ritornata a Settimia Spizzichino da Auschwitz... l'unica donna di quindici uomini... ehm... lei... aveva lunghe file davanti a casa di famiglie che chiedevano... ehm... di questi mille e sessantatré... ehm... scomparsi... insomma, no... ehm... che fine avessero fatto... e lei... ehm... la famiglia di Emanuele è stata portata subito alle camere a gas... e lui... diceva... era una donna di 37 anni... forte... ehm... un toro... aveva sei figli... ehm... ricordava che quando c'era stato il bombardamento a Roma di San Giovanni... adesso non mi ricordo... qualche mese prima... San Lorenzo... mi confondevo il santo... ehm... che ehm... lei li aveva portati i figli in rifugio... ed era tornata a casa... a cucinare... perché poi il bombardamento finiva e questi dovevano mangiare... cioè... era... una donna coraggiosa... e una donna in grado di poter lavorare... e lì... ehm... Emanuele ha avuto... ehm... una rivelazione... ha detto... forse... capisco la... ehm... il crollo... che ha avuto anche mio padre... mia mamma era incinta... mia mamma era incinta... e questo lo ha ricostruito... grazie a tutti i discorsi, no... che abbiamo fatto... per me è stato un arricchimento enorme... e... inutile dire che questo è un libro che a Roma... ha innescato una serie di storie pazzesche... ve ne racconto una... ehm... ehm... allora... avevo aperto una cartellina di immagini... ok... allora... qua ci sono alcune immagini che avevo scattato... insieme a Emanuele... per ehm... riguardarmi, no... i... questo... i luoghi, insomma, di dove era successo... questo... questo è Emanuele... questo è Emanuele da piccolo... e... ecco... queste sono immagini che ho scattato... al deposito... al polo museale ATAC di Roma... eh... eravamo appena entrati in pandemia... quindi... eh... non c'erano ancora tante mascherine in giro... io ero a Roma per due settimane... e... stavo facendo ricerca su... eh... le immagini che poi andavano nel libro... e siccome sono una persona molto ligia al dovere... telefono... alla direttrice del polo museale... e chiedo il permesso di poter fare delle fotografie... e questa me la fa cadere molto dall'alto... dicendo... eh... ma ci vogliono i permessi... e mi deve scrivere... e mi chiami la settimana prossima... e... e io la settimana dopo me ne tornavo a casa... il giorno dopo vado... a... presentarmi a muso duro davanti a questa persona... arrivo davanti al polo museale... e si apre la sbarra che... fa passare i furgoni, no? per... e l'ho visto come un... segno del destino... vado... comincio a fare delle foto... mi ferma il custode... mi dice... lei non può stare qua... e gli ho detto... eh... io ieri ho parlato con la direttrice... eh... ah... va bene... va bene... e poi... quando è uscito il libro... ci siamo chieste con Fausta... è meglio scrivere qualcosa... e... e abbiamo detto... vabbè... vada... quando è uscito il libro... ci telefona... la direttrice... dicendo... eh... ho visto questa bellissima storia... possiamo fare una presentazione con il signor di Porto... nel museo... per farla breve... ne hanno fatte tipo cinque o sei... e una l'ha fatta... lei... ai nuovi assunti dell'Atac... proprio per... ehm... ehm... come si può dire... ehm... fargli capire... esatto... perché lei diceva tante volte... eh... questi sbattono fuori i ragazzini... che non hanno il biglietto, no? ecco... 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 questa era una delle storie... allora... due cose... una... se avete delle domande... chiaramente... eh... Isabella è qua... e... sta qua altri due giorni... quindi poi se la incrociate... per strada a conversare... potete placarla... e fargli le domande... che magari adesso... non vi viene in mente di farle... ehm... la seconda... anche per... come dire... ehm... rimettere al centro... anche il lavoro di un'autrice... è che... il lavoro di Isabella... non è solo un lavoro... sulla realtà... ehm... così com'è... ehm... non è una storica Isabella... ma... in realtà... è un'artista che... come dire... ehm... tocca anche... ehm... altri... ambiti... ehm... dell'immaginario... ehm... due esempi... estremi... ehm... uno è... vuol dire... un omaggio... a... ehm... alla letteratura... ehm... e... al vecchio il mare di Ernest Hemingwell... che lei racconta... sottraendo il testo... e quindi... raccontando solo per... immagini... una storia... e l'altro è un lavoro... è il primo lavoro... di cui... ehm... parlavamo... diciamo... diciamo... all'inizio... che è questo... primo libro pubblicato con orecchio acerbo... che si chiama... Lungo il cammino... che... ehm... è un libro dove in realtà... c'è tanta realtà... c'è tanta storia... ma c'è anche tanta... dimensione... non direi di fantastico... ma... ehm... come direi... di una narrazione che dalla realtà ci porta... da un'altra parte... e... questo lo dico... non perché... intanto per farvi pensare meglio alle domande che volete farle... ma anche per darvi un po' la dimensione di... come... ehm... un'autrice possa immergersi... attraverso fra l'altro... una cosa che non siamo riusciti ancora a dire... ma... un segno molto riconoscibile... un... un'identità grafica... fortissima... immediata... riconosci l'ibri di Isabella... quando sono in vetrina... eh... anche... se non vedi il nome... se c'è la serranda mezzaggiù... ehm... oltre al marker del... del bianco e nero... che ti caratterizza... ma... come dire... è immediata... la... la riconoscibilità... però... ehm... non lo sono invece le storie che racconti... è vero che... probabilmente la storia esercita un fascino... le storie vere... esercita un fascino su di te... ma... in un'opera come Lungo il cammino... che è invece una storia... ehm... e non so neanche come definirla... è una storia molto intima... di un percorso... che nasce da una catastrofe... anche qui una catastrofe di nuovo... torniamo sul raccontato e non raccontato... ehm... una catastrofe di cui il lettore o la lettrice... non sanno niente... e in questo caso però... mi piaceva arrivare a lungo il cammino... perché... ehm... la protagonista di questa storia... che è una ragazza... ehm... è una ragazza che sappiamo dall'inizio... tutti pensano che prima o poi si metterà nei guai... è una ragazza che abita in un contesto rurale... lo capiamo subito... in campagna... ehm... e che per... si trova... ad un certo punto... ehm... a un certo punto che è la seconda pagina... ehm... a non avere più nessuno intorno... sono tutti scomparsi... potrebbe essere una distopia... calata... nell'oggi... nel futuro... ehm... Isabella la colloca in uno spazio... di cui... non sappiamo riconoscere i confini temporali... perché... è molto brava a fare avanti e indietro... nella storia... ma anche... ehm... a giocare con un altro elemento... che mi piaceva inserire... perché negli altri due libri non esiste... che è il mondo fuori... la natura... ehm... questo è un libro... di un bosco... è un libro di... di boschi... di pecore... di lupi... ehm... di città che non ci sono più... ehm... in cui la natura... esercita un potere fortissimo... e allora... niente... mi piaceva anche per... spostarci un po'... ehm... che tu ci raccontassi di questa storia... e mi piaceva proprio chiederti in questo caso... se quando tu guardi la natura... invece di guardare la storia... la guardi in maniera diversa... c'è una grande eh... relazione che tu hai con la descrizione delle cose... no? che vale per la storia... che vale per la natura... che vale per i personaggi... e mi piaceva proprio sollecitarti su questi due mondi... su come ti trovi nel mezzo... allora... diciamo che... anche se... io vengo da una città di mare... il bosco... ha sempre rappresentato... la mia... dimensione... ideale... e... quindi... non sono... la savonese che va... alla spiaggia... o a spiaggia... come si dice a Savona... a spiaggia... e... ma... ho sempre... camminato... nei boschi... e... ehm... e mi sono sempre... sentita... parte... di qualcosa... solo... nel bosco... e... io credo che... in questo progetto... ho fuso... diciamo... un viaggio... all'esterno... come diceva Ilaria... ma... anche molto introspettivo... cioè... il bosco... in questo caso... rappresenta... probabilmente... tutta... una mia... interiorità... ecco... e... e... e questo è proprio un percorso... doloroso... che ho fatto... con... un dolore che dovevo... togliermi dalle viscere... e... e poi... finalmente ha... eh... eh... si è concretizzato... eh... in un libro... in un oggetto tridimensionale... e l'ho potuto tirare fuori... ma non pensavo... che diventasse un libro... quindi sono stata veramente molto libera... eh... io ho soltanto disegnato qualche tavola... per il portfolio... eh... senza... eh... sì... legate... ovviamente... da un... anche inconsciamente... una storia che stava prendendo... forma... no... dentro... di me... però... non... finalizzata... eh... e abbia voluto... intensamente... questo... libro... e... lo ha voluto... e... abbiamo aggiunto soltanto... poche... cose... abbiamo aggiunto tutti gli scontornati... cioè questi, no? queste... immagini... nel bianco... e... una tavola... che Fausta ha voluto... dove si spiega... in maniera anche... eh... visiva... che questa storia... è ambientata... in un mondo altro... rispetto a quello che sembra... all'inizio della storia... e... poi... non è un libro... facile... infatti... io non l'ho mai presentato... e... all'inizio le vendite sono andate malissimo... e... mi sono anche... sentita in dovere di scusarmi con Fausta... no? che al contrario degli altri libri... che invece macinano edizioni su edizioni... questo si è ancora... alla prima edizione... e lei... mi ha detto... io l'ho voluto così tanto... questo... questo libro... e questa storia... e... che... non mi pentirò mai... di averlo... stampato e pubblicato... quindi... stai tranquilla... ha fatto bene... ha fatto bene... con... con il senno di poi... dei lettori e delle lettrici... ha fatto molto bene... c'era un ditino alzato... abbiamo visto... no... vai... allora intanto... tanti complimenti... io non la conoscevo... e... sono veramente... ammirata... per il suo lavoro... anche di ricerca... e... torno sul... primo... sul treno dei bambini... perché... le volevo chiedere due cose... io non ne sapevo nulla... ho letto il libro di Viola Ardone... Viola... è uscito prima il libro... di questo... dopo... dopo... ok... e... poi l'altra domanda che le volevo fare... questa raccolta di interviste... di Angelino Loffredo... è una raccolta... Loffredi... è una raccolta... che lui ha depositato in qualche archivio... è una raccolta che lui ha... ehm... a casa... cioè... è un utile... è... questa fonte... diciamo... questa idea di intervistare... eh... è rimasta... diciamo... chiusa a casa sua... oppure... eh... sono... disponibili... come fonte... grazie... e complimenti ancora... grazie... allora... eh... eh... ho letto il suo blog... lui ha un blog... vecchia maniera... insomma... no... di... qualche anno fa... dove su un'unica pagina... lunghissima... ha scritto... tutte queste... tutte queste... testimonianze... e... credo sia una persona di una certa età... che si sia fatto... magari anche... aiutare... che si sia... eh... stato spinto... proprio da un interesse... eh... suo... ecco... rispetto al tempo... ehm... ho chiesto... eh... di poter... scrivere... il... diciamo... il link... alla... alla sua pagina... infatti... lo abbiamo scritto... in... in... nei crediti... alla fine... cioè... ci sono... sì... eh... però... non so se... non... non so altro... ecco... di questo... di questo signore... so che mi ha aiutato parecchio... ecco... e che... è comunque... molto molto bello... leggere queste... trascrizioni... che un po' si assomigliano tutte... anche se sono tutte... diverse... allora... io... utilizzo tantissimo gli albi... sono insegnante di scuola media... in terza... moltissimo... eh... ho usato tantissimo... l'anno scorso il treno dei bambini... e il tram... scusa... il bambino del tram... e... alcuni ragazzi agli esami... una ragazza ha portato il suo percorso... partendo dal libro... e... quest'anno ho una terza... e abbiamo lavorato... eh... per prepararci all'incontro di domani... con tutte e tre gli albi... questo è l'ultimo che io ho acquistato in occasione di lecto... ho diviso la cassa in tre... e ogni... eh... abbiamo poi... evidenziato le caratteristiche... eh... ognuno ha detto... insomma... quello che... ogni gruppo... però... era... diciamo... parziale... il lavoro... perché poi gli altri... non conoscevano i libri... abbiamo trovato in internet... i video... relativi ai libri... e... l'emozione fortissima... del finale di tre in tutto... è stata una cosa... pazzesca... quando abbiamo visto le immagini... e abbiamo... letto... no... delle mamme... tre in tutto... si è creato un silenzio... mi hanno... mi hanno guardato... e... è stata una cosa... proprio forte... volevo dirlo... perché... io stessa... avevo la pelle duca... ma... quella... quelle... tre parole... hanno detto... tantissimo... è stata una cosa... bellissima... erano... colpitissimi... da questa cosa... ovviamente... non abbiamo fatto un'analisi... che ha fatto lei... chiaramente... perché... adesso lo potrò dire... domani... vabbè... l'ascolteranno... e... l'ho proprio voluto fortemente... infatti... è l'unica classe che viene... perché io ci credo... tantissimo... negli albi... proprio tanto... li uso proprio tanto... e... ma ripeto... questa emozione... è stata per me... emozionantissima... ma anche per loro... dove ci sono anche teste calde... eh... ma non volava una mosca... mi guardavano... cioè... della serie... ma veramente... cioè... quanta emozione... può regalare un libro così... è stato bellissimo... grazie... grazie... c'è qualche altro curioso... curiosa? intanto... io do... invece... un'informazione di servizio... che... eh... potete tutti quanti... scrivere moltissimo... ad orecchio acerbo... perché... purtroppo... questo libro... fra quando l'abbiamo messo... all'inizio del... in bibliografia... e oggi... è andato... esaurendosi... perché purtroppo... ne vendi troppi... e... e quindi... non lo trovate... in vendita adesso... perché è in ristampa... questo lo dico... per... ma... trovate il bambino del tram... e trovate gli altri... quindi... era giusto perché... se no... tornavate... ce lo dicevate... buonasera... intanto le faccio i complimenti... anch'io non la conoscevo... volevo chiederle una cosa tecnica... perché sono un'appassionata di fotografia... e ho... fatto caso... al fatto che... parte dalla fotografia... per poi elaborare... l'illustrazione... ma volevo chiedere se... questa... questo legame con la fotografia... lo utilizza sempre... per l'elaborazione di un'illustrazione... o soltanto... quando... riguarda... una storia vera... per cui... si deve documentare... come ha raccontato prima... solo questo... la ringrazio... diciamo che io prima... elaboro l'illustrazione... e poi dopo... con la fotografia... vado ad aggiungere... tutti quei dettagli... che... mi servono... per poter disegnare... in maniera realistica... quindi... il lavoro che viene fatto... sulla creazione... dell'immagine... è... a posteriori... no? quindi... devo... muovermi... dentro... questo... ambiente... che mi vado... creando... poi dopo... fisso... ovviamente... no? se io ho bisogno di... eh... vedere... eh... in prospettiva... un tram... del 1943... mi vado a fotografare... il tram... del 43... per... avere tutti quei dettagli... che... aiutano... anche a... portare il lettore... in quella... atmosfera... eh... diciamo che... eh... quando... eh... ho iniziato a lavorare... negli anni 90... facevo qualunque tipo... di tecnica... e qualunque tipo... di... richiesta... mi venisse... fatta... io cercavo di soddisfarla... e... mi sono fermata... qualche anno... quando ho avuto i figli... poi... quando ho ricominciato... ho detto... va bene... adesso... voglio... fare delle cose... che piacciono a me... eh... eh... sentivo... il... bisogno di cercare... un'originalità... ovviamente... di avere una mia voce... ehm... però... più cercavo di astrarre... e più... eh... rimanevo... in immagini... reali... che non è... ehm... un realismo... fine a se stesso... è... filtrato da... tutte le mie esperienze... quindi... possiamo dire che è più... un realismo magico... rispetto... no? ehm... e io ho detto... io quello... voglio fare... lo voglio fare... in bianco e nero... ehm... ehm... diciamo... ehm... l'idea che c'è un mondo altro... eh... se... guardate i miei libri... non è mai un bianco e nero... uguale... cioè... in tre in tutto abbiamo... ehm... virato leggermente seppia... per ricordare un po' le fotografie... vintage... in... il bambino del tram... abbiamo cercato... la stessa tonalità... del... ehm... della pellicola ferranea... che veniva usata per il cinema del neorealismo... no? anche quelli sono dettagli veramente molto... ehm... fragili... che non da tutti vengono colti... però che contribuiscono, no? a dare... ehm... quella... atmosfera... quindi... ehm... fotografia è sempre un elemento narrativo... in funzione della... dell'illustrazione... qualche altra curiosità? visto che... allora... se non ci sono altre curiosità... per il momento... poi dopo appunto... eh... Isabella è qua... eh... dedica i suoi libri... eh... a chi... volesse acquistarne... e... nei prossimi giorni... incontra... i bambini e le bambine di Conversano... quindi sarebbe molto bello... rifare questo incontro... dopo le mattinate con... con le classi... e... ehm... io la ringrazio... moltissimissimissimo... ehm... per... per i libri... in primis... eh... ma soprattutto per la... disponibilità... con cui... veramente... si mette a disposizione... per raccontare delle cose... che anche solo a sentirtele dire... diventano... diventano... enorme... e... ti aspettiamo al varco adesso... a questo punto... siamo tutti qui... che aspettiamo di sapere... anzi... forse chiudiamo così... adesso cosa fai? Allora... sto lavorando... a un... nuovo... testo di Davide Calì... e... è una storia d'amore... e... sarà... per una parte in bianco e nero... e per una parte a colori... perché... eh... in questo caso... è... un elemento narrativo importante... e... spero di... eh... pubblicarlo per Bologna... dell'anno prossimo... quindi... aprile... insomma... primavera dell'anno prossimo... grazie... grazie... grazie mille Isabella... grazie mille a voi... grazie... a Lector... e... ci vediamo... col libro ad aprile... sì... chi vuole le dediche... chiaramente siamo qua... grazie... 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 grazie...